Ciao a tutti ragazzi, qua è Bellozorio che parla e oggi siamo qui in questo nuovo video Siamo qui in questo nuovo video su, diciamo, Forza Horizon 3 Un attimo che devo cambiare la schermata Che a vedersi, per fortuna si vede, funzionare funziona HDMI, perfetto Sì, ho appoggiato praticamente l'iPhone sopra lo schermo, in poche parole E vorrei anche scollegare io questo cavo perché è abbastanza scomodo Penso funzioni, ti prego dimmi di sì Ok, no, questo cavo qui No, perché ho provato di tirar giù il cellulare per errore così Perché non è sostanzialmente appoggiato, è lì perché deve essere lì Sì, ok, funziona Perché non mi va su HDMI Non c'è l'ingresso video Ok, ci siamo Comunque, siamo qui oggi per farci un attimo due giretti Allora, visia, sta venduta Venduta? Senza alcuna offerta, uffa Senza alcuna offerta Ah, ho ottenuto 170.000 dollari per questa No, sì, perché sto vendendo delle macchine Queste due senza offerta Invece con queste qui ho ottenuto 170.000 dollari Veramente una cosa buona, devo ammettere Ditemi se vi piace più la vista così o la vista che si vede prima da più a destra Che si vede solo Diciamo il lato destro di qua di me No, di qua Qua, praticamente di qua E il microfono tutto per di qua Ora voi non capite l'angolazione perché Il cellulare è come se fosse girato al contrario Siamo qui oggi un attimo per dirirci un po' Sì, logicamente stanno abbassando le tapparelle perché è abbastanza tardi Il microfono credo sia in funzione Sì, quindi sentirà un casino bestia Ora prendiamo una macchinetta abbastanza bella Tra tutte quelle che abbiamo Per ora per fare un attimo un test drive Ci prendiamo l'M5 Ditemi se... Ok, no niente Sembra abbastanza in alta definizione la fotocamera Sia per soliti avvisi Ok, usciamo e facciamoci un bel giretto Poi tra l'altro dopo vi farò vedere un trucchetto Che ormai penso che conoscono tutti Per fare tantissimi punti Cioè, per fare tantissimi punti Per guadagnarsi i gettoni Che sarebbero questi qua che sto facendo io Ho trattato un pugno al micro Sarebbe quella che sto facendo io adesso da rapando Che si vedono 100 Poi 100 là per 1, ok Avete capito In pratica vi mostrerò come farli Senza far niente Come farli praticamente quasi all'infinito Diciamo Tipo in 3 minuti fate Un 60.000 punti Per 5 Quindi fate un 150.000 Per cosa del genere Eh, secondo me Ora Andiamo a fare una garetta Vediamo dove farla Io preferirei farla in città Perché io sono più pratico Nella city Quindi Ce andremo con questa macchina E nel frattempo vi dirò qualche news Magari Per un attimo Sdramatizzare Ditemi se questo video vi piace Cioè, vi sta Vi Vi sta piacendo Non so che non mi aiuterò Probabilmente vi darò trucchi Cioè, farò un clickbait Pazzesco Tanto ormai lo fanno tutti Quindi ne vale la pena Che lo faccio anche io Ormai Distinguersi dalla massa Non esiste più o meno Quindi Ok Cerchiamo di arrivare Questa maledetta Meta Sono 6,1 6,0 km Ragazzi La maglietta cadosso Mi piace un casino È Della Un attimo Prima arriviamo Questa Maledettissima Destinazione Ho spostato un attimo Il microfono Perché In mezzo alle gambe Qui C'ho Il computer Aiuto Tac Una macchina normale Nella realtà Penso sarebbe distrutta Comunque Il microfono Lo voglio qui Ok Ragazzi Cioè dovete dirmi Se non è bellissima Questa maglietta Con su scritto Dreambeat Sì Voi la vedete Al contrario Ma è bellissima Cosa ho scritto Qua Dreambeat Sarà Penso il mio motto Per un milione Di anni Quindi Scriverò nei commenti Dreambeat Scriverete sotto Hashtag Dreambeat Ok Ok Gentilmente Offerta Da Chi so io Ora andiamo qua nel social Centro messaggi Mi sono raccompense A derivatar Appunto 6800 Ok Ora abbiamo rivali Ok Progressi Un punto Perfetto Sì Sta macchina Sgomma un casino Ragazzi Cioè schiaccia un attimo L'acceleratore E parte subito Quindi Quindi News Cosa posso dire di news Tutti i prossimi video Saranno con questa Diciamo Webcam Magari non la userò In tutti Tutti i video Perché Ok può capitare Magari Questa volta Che non posso utilizzare La webcam Quindi non la utilizzerò Poi Penso che Invece di usare Il cellulare Magari userò anche Una vera e propria webcam Così che posso usare Programmi normali Senza che mi si vede Il coso di Zoni La Zinomi Zinoni Cosa del genere Nizoni Nizomi Cosa del genere Che c'è scherzo La sotto E se ti levi Perfetto Arrappiamocela un po' Ok 2300 Buono Solo che se andiamo a sbattere Quando faccio i miei punti Li perdiamo tutti Olè Visto Eh si ragazzi Quando non lo voglio Diguidare Io sono fatto così Verrugiamo questa maledetta meta Che voglio fare una bella garetta Io Proprio da distruggere Tutti quanti Con questa bellissima M5 Anche se la macchina Più veloce che ho È un Mercedes Eh Non mi ricordo Se era o il C63 O l'E63 AMG Potenziato al massimo Fa tipo anche 10 Di velocità massima Una cosa paurosa Ok Prepariamo l'evento Esibizione No Facciamo progetta Andiamo su Tipi auto Ok Produttore Dove era il Mercedes Dove era Non lo vedo No non è qui Eh Ci ho dimenticato anche il simbolo Della Mercedes In questo momento Non so perché Eccolo Questo Creiamo il progetto Scegliamo una bella macchinetta Eccola Questa qua La E63 AMG Ragazzi Questa macchina fa paura 10 di velocità massima 8 di controllo 10 di accelerazione 10 di partenza da fermo E 9.6 di Frenata Ragazzi È la macchina migliore che c'è al mondo Controllo perfetto Velocissimo Non mi ha mai battuto nessuno Con questa macchina Anche se in questo gioco è facile Arrivare subito primi Perché Non Cioè Così Che dai 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 Che sta partendo Che prima sincronizza Già il drivatar Quindi Sto registrando Con la vermedia Comunque Quindi il suono Mi sa che è anche Un po' ritardato Perfetto Non posso vedere la webcam Perché mi si è aperta Una pubblicità Praticamente E questa cosa mi irrita Ok Sì perché in pratica Devo installare un'app Sul cellulare Che devo tenere aperta E Un'app Un'app Un programma Sul computer Per collegarli Tramite diciamo Bluetooth Qualcosa del genere E così Farle funzionare Ok Adesso arriviamo subito primi Guardate Tac Basta non colpire le macchine E in sto gioco hai vinto Bisogna passare in pratica Per chi Non lo sa Bisogna passare in mezzo A ste bandierine Qua verdi Se tu Anche Cioè se tipo Gli vai adosso E come se le hai passate Se tu gli passi appena a fianco Queste non Cioè non hai calcolato il giro E tu devi riavvolgere Premendo O Y O triangolo Nella play Sti ragazzi Per molti Che sanno che ho L'Xbox One Diranno che non saprò Usare la La play Diciamo Ma io invece So usare perfettamente Tutte e due le console Perché Tutti dicono Se tu non hai mai avuto una play Non ci sai giocare Questo ragazzi Non c'entra Perché Cioè Non lo so Sinceramente Però secondo me Non c'entra Perché Se tu Sai Cioè maneggiare Un joystick Sai maneggiare Un joystick Di qualsiasi tipo Cioè cambiano solo Le forme dei tasti E il nome Cioè non è che cambiano Che cambia proprio L'inserzione Alla fine Cioè LB RT Sarebbero la stessa Identica cosa Su Come si chiama Su play Solo che i tasti Sono diversi Cioè triangolo O è uguale a Y Quadrato O è uguale a X Cerchio È uguale a B Perché stanno A sbattere di continuo Cioè devo fare il figo De rapando È sbaglio E A È uguale a Y Cerchio Quadrato Quadrato A è uguale a quadrato No Triangolo No Triangolo è sopra Cerchio a lato Quadrato di qua X E A Triangolo Cerchio Quadrato Non mi ricordo Penso che Vi lascerò Uno screen Qui davanti Un attimo Per Perché almeno Lo capite voi Oddio Non mi ricordo Veramente Comunque Li stiamo distaccando Come Come la pazzesca E stiamo facendo Un casino di punti Eh Vabbè abbiamo vinto Di quanto Li abbiamo distaccati Vediamo Io ho fatto 47 Quello di 49 Che non Mi è arrivato Un messaggio Scusate Un attimo Che Controllo Un secondo Una cosa Ok Sto Continuando A registrare Uh La 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 Ok 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 Sì vabbè 8000 euro Con la gara Ci ho fuso Ci ho fuso la macchina Prova Ok Ogni volta Che in pratica Noi superiamo Un livello Guadagniamo Uno spin Questo spin Ho guadagnato 35000 dollari Le cose belle Di questo gioco Ragazzi Le cose belle Di questo gioco Sì con 7 milioni Di fans Faccio 7000 euro A gara Di solito Si fanno 700 milioni A gara Vabbè Ora Vi voglio mostrare Il trucco Quindi dobbiamo Tornare qua Sì lo so Ci sarebbe Lo spostamento Rapido Solo che Non voglio spendere Più di Troppi soldi E Vatti Sono 8 km Come sono 8 km Vabbè ragazzi Allora Vi insegno modo Per non fare Tutta la strada Se magari Voi volete Arrivare prima Voi non dovete Per forza Seguire La strada Voi potete Anche tagliare Per i campi Così Tac Grande Sono un grande Io con questi giochi Sì Non so perché Non guardo l'obiettivo Ma mi sto guardando Da solo Mentre parlo Sì vabbè Non serve proprio così Tagliare nei campi Perché è una macchina Penso che si ribalterebbe Con questi salti E questi movimenti Però Ecco Tipo così L'albero Sarebbe caduto Ok Il conducente Sarebbe morto Dalla macchina Però L'albero Sarebbe Lo so L'albero Sarebbe Caduto Ma tanto Ma ragazzi Guardate Perché dico Che è tanto veloce Cioè siamo a 300 Kilometri orari Siamo in quarta Maledizione Stavo guardando Il Il contachilometro Stavo guardando avanti Che ora Guardatela sotto voi Il contachilometri Fra poco Toccheremo Il 400 Maledizione Comunque Mi sa che Cercherebbe Toccati 400 Probabilmente Farò un replay Di questa cosa Tanto Questa strada È lunghissima Dura per la morte Anche Ok 3 6 3 8 3 9 400 Perfetto Il suo massimo Era 4 4 15 Qualcosa del genere No Resisti Resisti Vabbè dai Più o meno La derrapata Mi è uscita però Vabbè Come avete visto Raggiunge Più o meno 415 Kilometri orari Anche se non è Però la macchina Più veloce Di Anche se Non fa parte Mi sa Delle macchine Più veloci Di far La horizon 3 Perché mi sa Che quelle lì Raggiungono Le 700 Orari Mi sa Credo Mi sa di si Ok ragazzi Ora vi faccio vedere Il trucco Allora In pratica Questo trucco Ci servirà La Nissan GTR Black Edition Questa qua Allora Ora Ora Vi faccio vedere Allora BMW Bowler Holden Honda Jaguar Lamborghini Lancia Maserati Mercaren Mair Mitsubi Nissan Questa qua La Nissan GTR Black Edition Con Diciamo L'assetto LSR RSB Qualcosa del genere Perché appunto Si vedrà Così Praticamente Più o meno Perché appunto Ci arriva per questo trucco Perché senza Questo assetto La macchina Cioè diciamo Non faremo questi punti In poche parole Cosa succederà Ora Vi facciamo vedere Dovremo andare Prometterò che non ci avete già Bisognerà Andare su Dei binari Poche parole Diciamo Che è un guadagno Di punti infiniti Calcolando un attimo La cosa Arriviamo su questi Maledetti binari Ok Perfetto Mi sa che voi State sentendo un casino Che alla metà basta Ole Ole Oh Oh Ok Comunque Ecco I binari Sono qui davanti Per l'appunto Ora voi Pian piano Guardate Salite sui Sui binari E la macchina Farà così Ecco La macchina Incomincerà a termare Voi dovrete tenere premuto La retromarcia Se in teoria Non dovrebbe far così Che raggiunge 300 km In frenata Ma quelli sono dettagli Perché in teoria Il trucco dovrebbe funzionare così Che la macchina Cominci a far così Voi tenete premuto La retromarcia La macchina continua a saltare E come vedete Mi da di continuo punti Salto definitivo Salto definitivo Salto definitivo Mi da sempre più punti Verso l'infinito E oltre Catena abilità spettacolare Bla 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 Così che Continua Fino alla morte Finchè poi magari Non arriva un treno Oppure la macchina Si sposta per qualche bug Quindi è posto Ora siamo a 13.000 14.000 Io ora continuerò Finchè Non si sposterà Prendente da sola la macchina Quindi verso i 50.000 Penso No Vabbè Si è formata prima Comunque penso Ci avete capito Il trucco che serve Per fare più punti possibili Ecco Io ho fatto 49.000 Ho guadagnato un punto abilità Questo è C'è l'unico trucco Che conosco Per questo gioco Quindi C'è Siamo messi un po' così Cosa si può fare In questo gioco Bello A parte che sarà Tantissimo Che starò Registrando Facciamoci un attimo Magari qualche giretto Di qua Logicamente Io vado a sbattere Così Sì poi che Questo allettone È veramente Da un attrito Che Un attrito Un attrito Si è messi male Adesso probabilmente Avrò anche Rovinato la registrazione Perché aveva lasciato Le cuffie accese Quindi si sentiva Un casino Pazzesco Perfetto Poi vicino al microfono Per eccellenza proprio Vero? Sì Vediamo quanto raggiunge Questa qui Possibilmente Non incontro mano Perfetto Sono grande Questa qua però Se non sbaglio Non raggiungeva Più di molto Cioè perché Non l'ho potenziata Tanto Solo Messo Quel cosino lì Poi l'ho comprata Un'asta Per spendere Molto di meno Speso tipo 20.000 Uno La vendrà poco E quindi Niente Ok Vabbè Però i 300 Li raggiunge Vabbè In un gioco Potrebbero essere Anche pochi Ma nella realtà Se ti vedi una GTR Che ti vola Così davanti A 327 km Rari Penso che Ti squoi Da solo Ci proprio Ti cade la pelle Non lo so Ragazzi guardate Che 340 km Rari Sono veramente Tanti Se li calcolate Abbiamo fatto 12.000 punti Questo è un altro modo Per guadagnare Tanti punti Mettersi a correre In autostrada E non beccare Magari la macchina Per avvicinarsi Un pochino Così da far punti Poi tanto Con la velocità Vi da velocità Definitiva Velocità fantastica Catena veditate Quale cose lì Guadagnate Tantissimi punti Basta che poi Non andate a sbattere Come dei citrulli Possibilmente Ok aspetta Aspetta un attimo Che è maledizione Però Io voglio Evitare Di No Io mi fermo Perfetto 122.000 punti Un altro puntabilità Penso Mi sa che me ne da un altro No Comunque ragazzi C'è Qui in forza Horizon 3 Hanno anche creato Le carovane Che se io passo A fianco E con L'allorologico Suono Questi derivatori Diventano Arancioni Di conseguenza Carovane Ovvero Che mi seguono Tutti Teorie Eccoli E ce li ho tutti Dietro adesso In pratica Puoi fare anche Le gare Con le carovane E tutto Ecco Tipo Questo qua Che c'ha Ah ma Ma quella lì Mi sa che è la Nissan GTR Del 2017 Questa qui è la Mi sa quella lì Del 2012 Non del 2017 Mi comprerò Quella del 2017 Tu levati Eccellente Allora Vediamo Questa qui c'è anche Un Ferrari Qua davanti Con i Ferrari Non si scherza Più di molto Di quel che so Allora Uno mi servono soldi Due mi servono soldi Tre mi servono soldi Quattro mi servono soldi C'ho 74 mila dollari Ma mi sa che Ma Ma mi sa che Costa di più La Quella lì Del 2017 Già Bella sfiga No perché la perdo Se faccio una carona Verso Fino a Ajarra Valley Oh no Con questo qua Sono quelli che Guadagnano tantissimo Se vi levate Magari voi Io faccio una gara Allora Anna Scioglimi sta carovana Anna Scioglimi sta carovana No tipo Che devo No 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 Gli devo andare dietro Quello lì Corri 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 In pratica no Facendo dei punti skill Voi potete Cioè si trovano questi qua Che hanno un bersaglietto Sopra no Sono quelli che Vincendo contro di loro Che sarebbero i boss Diciamo del quartiere Guadagnì Guadagnì Un casino Cioè guadagnì tantissimo Però lo scopo Non è tanto Quello di Trovarli Quello di batterli Perché di solito È più facile Batterli con altre macchine Ma con queste macchine Scrause È un po' più brutta Poi In sto gioco I bot li han creati Abbastanza bene Di conseguenza Corrono E tagliano Anche nelle strade Perché Loro vogliono Saper guidare meglio di me Ma Non succederà mai Perché non sanno Quanto io sono bravo A barare con le macchine Quindi Ho vinto Ho fatto 50.000 Guardate eh Tipo 50 40.000 Vediamo Sì più o meno Sì 41.000 Grandissimo Grandissimo Eccellente Ora 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 Sì Penso che il video Possa terminare qua Intanto però Devo cambiare qua Un attimo Una cosa Qui Perfetto Penso che Il video Possa terminare qua Ovviamente Se il video Vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Ditemi se ne volete altri Ciao 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 Ciao